Un'altra delle grandi incompiute della città di Montesilvano verrà finalmente concretizzata mettendo la parola fine ai disagi dei residenti. Così il sindaco Francesco Maragno ha presentato ufficialmente l'avvio dei lavori di installazione dei pannelli antirumore lungo il tracciato ferroviario di Montesilvano. Un'opera attesa da oltre 30 anni qui a Montesilvano consta di un investimento di 23 milioni di euro da parte di RFI. Siamo arrivati finalmente alla conclusione di un iter che è iniziato diversi anni fa ma che poi si era bloccato e siamo riusciti a sbloccarlo, a riattivarlo e finalmente nel giro di qualche settimana i lavori partiranno, dando sollievo alle centinaia di famiglie che in questi tre anni hanno vissuto davvero un incubo, quello di non poter vivere tranquillamente all'interno delle mura domestiche. I lavori prevedono l'installazione di barriere di circa 4,5 metri di altezza in un tracciato di 2,3 chilometri dal confine nord di Montesilvano fino a via Parlasca, poco dopo il cavalcavia all'altezza di via Verrotti. Gli interventi verranno eseguiti contemporaneamente in più punti del tracciato oggetto del primo lotto, scelto dando priorità ai punti dove vi è un'esposizione maggiore di rumore. I lavori che si concluderanno entro quattro anni verranno condotti per lo più nelle ore notturne per ridurre al massimo gli impatti sulle residenze limitrofe e sull'esercizio ferroviario.